pace e bene a tutti e anche pace e luce che il signore ci doni luce e anche pace soprattutto iniziando dal cuore quello che oggi oggi 31 dicembre 2023 si celebra come tutti gli anni la santa famiglia di Nazareth questo è un modello però ricordiamo tutte le famiglie del giorno d'oggi tutti siamo la stessa barca che in un modo che in un altro viviamo in una situazione veramente di tante famiglie disagiate ma soprattutto chiediamo il dono una famiglia della famiglia anche ci fosse una mamma un papà molto difficoltà una famiglia disastrosa però è sempre un dono di dio oggi voglio solo semplicemente unire certe preghiere dei fedeli io non mi prolungo per per leggere il vangelo per legge così perché tutti abbiamo bisogno del dono della famiglia ognuno però deve metto deve mettere la sua piccola parte fratelli e sorelle carissimi dio ha visitato la tenda di abramo dio ha visitato la casa di giuseppe maria dio oggi visita le nostre case a lui chiediamo luce e protezione ti affidiamo signore le nostre famiglie ognuno con la sua storia il suo cammino aiutaci ad illuminare i nostri passi con la luce della tua parola la tua famiglia signore faceva spazio ai pensieri e la preghiera dentro la vita quotidiana fa che le nostre giornate non diventino mai tempo senza anima ma conoscono il tempo dell'interiorità il tempo dell'incontro con te ti affidiamo signore le famiglie provate dal dramma della divisione della separazione non ne rimangano soffocate ma facciano esperienza di un dio che ci ha chiamati alla pace ti affidiamo signore le nostre comunità chi la vicina non trovi la rigidità di un'istituzione o la freddezza della istraneità ma trovi apertura nell'accoglienza freschezza nei rapporti che ne abbiamo tanto bisogno ti affidiamo signore il popolo di israele e insieme le chiese della riforma dell'ortodossia e le grandi religioni dell'umanità tenendo viva nel mondo la ricerca di dio allontanino la terra dall'aridità dell'incomprensione e dalla durezza del cuore ti affidiamo signore tutte quelle famiglie quelle persone che si trovano in questo momento nella sofferenza per la morte in questo periodo di persone care improvvise o malate ti affidiamo anche per tutti i giovani che si trovano in un mondo una realtà un po disorientata perché manchi non manchi mai un modello di famiglia ti affidiamo anche i genitori le mamme i papà che si trovano in difficoltà in questa realtà società di oggi ti affidiamo signore tutti ammalati le persone anziane sole che si trovano a godere si trovano scusate si trovano da sole e magari gli altri sono in giro a far festa e tutto e loro vengono un po' dimenticati ti affidiamo signore quelle persone depresse che si trovano a decidere un certo comportamento o che anche l'hanno già fatto tutto nel tuo cuore Gesù tu sei venuto sulla terra ti sei incarnato sei diventato un bambino come noi grazie al sì di Maria e anche al sì di Giuseppe che è stato collaboratore per portare avanti questo modello di famiglia Gesù ti affidiamo tutti noi ti affidiamo anche tutte le persone che in questo momento si trovano sulla strada si trovano a festeggiare il capodanno si trovano perché non dopo la festa non sia tutto vuoto ma però abbiano un punto di riferimento dentro nel cuore e sappiano ringraziare dire grazie ti affidiamo a tutte quelle persone quei bambini quelle persone innocenti che si trovano in ospedale ti affidiamo anche quelli che si trovano in guerra non è colpa loro si trovano mischiati in mezzo alle potenze a quelle persone che vogliono decidere loro sulla sorte degli altri Gesù tu così davanti a me vedi le nostre realtà così piccolo nudo ci fai capire che basta solo è solo la vita è un dono tutto è nelle mani di Dio a me inoltre personalmente voglio anche fare questa preghiera condividere con voi su una preghiera che mi ha colpito oggi è l'ultimo giorno dell'anno per cui ci sono tanti motivi di dire grazie di ringraziare anche in mezzo a un cuore lacerato anche se non capiamo e ve lo condivido il titolo è ringrazio ringrazio tutte le persone che in questo anno sono entrate e uscite dalla mia vita a chi mi ha donato un sorriso di gioia e chi una lacrima di delusione grazie a chi mi è stato vicino sopportando talvolta i miei sbalzi d'umore e grazie a chi mi ha voltato le spalle lasciandomi solo o sola perché mi ha insegnato a essere forte grazie a chi mi ha donato un pezzetto del suo cuore e a chi si è preso un pezzetto del mio auguri e buon anno grazie a chi mi ha donato un po'